Un bel sorriso tutti insieme Hai visto che forza? Ma sariamo assicura? A me non sembra Certo, tutto sotto controllo Papà! Ma tutto bene? Papà! Papà! Era tutto sotto controllo Sanno il fatto loro Non c'era nessun pericolo Lui si è talmente spaventato Che è scappato via dal tavolo Come? Ho visto mio marito Abbandonarci così Non condivido la tua Interpretazione dei fatti Quindi forse pensavi di tornare per disseppellirli Non stai piangendo veramente? Forse no No Uno, due, tre Chissà come reagirei se tu facessi una cosa del genere B Quality Sottotitolo